Gnoko Oggi Gnoko la Romana con tartare di Manzo Dopo aver tritato tutti i video di albis, gli metteremo dentro una bolla. Del beve nero. Essaggiamo come è venuto. Il composto andrebbe fatto riposare una notte. Ah, stichezze! Poco prima delle buonizioni, inseriamo il sepolino. A fuoco spento, inseriamo l'armigione buro. Quindi metteremo all'astrendario. Ed ora, ta-ta. Ora lo vedremo adattato con la marinatura vide. Due borli. E un po' di mustada. E un po' di mustada. Il piatto è pronto. Grazie a tutti.